ciao a tutti nella rubrica di cotto e megnate ciao a tutti e benvenuti nella rubrica di una sapatina uva sul darino i'm saying nice fingers a me step numero due Dove è? I can't concentrate, you have so big noise. Shut up, keep going. Uovo, uovo? Uovo. Che c'è lì da? Hai finito? I don't know if I like this track, so it keeps showing my teeth. Really? That's right. You know Pamela Hunter when she's people and she gives teeth? This is a song, bro. Is it? Yeah. Step numero uno! Che c'è da impalare! No, wait. I say impalare. You should say banare. No. Vieneo. What's inside? How much? I'm 175. Estilato o stadico? Ventilato o stirico? Ciao a tutti nell'orbigadì. Ciao a tutti nell'orbigadì. Ciao a tutti nell'orbigadì. Ciao a tutti nell'orbigadì. No. Ressort. Ok, we can go now. Umar alburga con tortellino, burga, amburga, tortellino, 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 you're just a Chinese. Oh, is the true, you're Chinese. Is the door chiuso? The nostre homemade, no, wait, wait, I should say homemade. E non dimenticatevi di seguireci nelle nostre pagine Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. No. What do you see the name of the dude? That's right, that's right. Yes, you do. Let's call him Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. What is that, guys? Ciao a tutti nell'orbigadì. Oh, come mi so, che cazzo fa? Polpette, poli, polpette, polpette, polpette. Roppla. Per la versione un po' più... Pah, 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 pah. Step numero 5. Che cazzo rido? Pah, 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 pah. Pah, pah, pah. Step numero 3. Ciao a tutti nell'orbigadì. Prendi del sordo. E ora, remuviare l'arte. Remuviiamo. Ah, remuiamo. E ora, remuvi l'arte. Remuvi l'arte? Posso fare step numero uno? Numero... Step numero uno. Numero... 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 Do you want me to do that? Yeah, shut up. And because I'm... You're trying to shut up. I don't know what they're saying. You want me to... Oh. You're trying to get you in there. Hmm. Then you'll have more than that. Stay on your shirt. Ciao. Okay. Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica di... Che non stai. Stammo chieva. Ha, ha, ha. Dormire. Santare. Alco stop. Starnuto. Starnuto. Caminare. Pasta con crema de barata e pistacchi con guanciale... Guanciale? Guanciale. Guanciale. Pasta con crema de barata e pistacchi con guanciale croissante. Crocante. Crocante. What's croissante? What is that? Pasta con crema de barata e pistacchi con guanciale croissante. Why? What are you doing? What are you doing? Questa rocetta. Ricetta. Ricetta. No. That one's funny. No. 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 Really? You can't feel a good fact. Just because you're dealing with partying one. è vero Cotto? No